Bea Briggs, il giorno del tuo rinnovo con l'Inter, quanto ti rende felice e orgogliosa questo momento? Amo questa squadra, questo club, abbiamo un gruppo speciale, volevo stare qui per continuare la mia strada e vincere qualcosa con le ragazze, quindi sono molto entusiasta di giocare ancora tre anni in questi colori. Come hai detto, è un prolungamento di tre anni. Che sensazione provi nel sapere che la società punta tantissimo su di te? Mi sento onorata di far parte di questo club ancora tre anni. Ho sempre dato il massimo, ma sento che in questo anno non avrei potuto fare quanto avrei voluto, quindi vorrei fare più e più e raggiungere qualcosa con la squadra. Continuo a fare tutto per questo club. Rispetto alla tua carriera con questi colori, con i colori nero-azzurri, c'è un momento che ricordi con particolare emozione? Ci siamo in tanti momenti belli, ma sottolineerai la vittoria contro la Juventus, perché abbiamo vinto la prima volta contro loro, quindi sono orgogliosa per quello che abbiamo fatto quella sera. Cosa ti senti di dire ai tifosi nero-azzurri e quali obiettivi ti poni già a partire dalla prossima stagione? Voglio lottare per il scudetto e anche per la Coppa Italia e anche voglio partecipare alla Champions League. Beatrix, grazie, complimenti. Grazie mille.